Dallo storico appuntamento a Santa Maria in Trastevere a Roma, dove è cominciata questa tradizione, alle periferie africane e latinoamericane, i pranzi di Natale di Sant'Egidio hanno conosciuto quest'anno migliaia di invitati. Sono i poveri amici della comunità durante tutto l'anno, senza dimora, anziani soli, immigrati, tra cui i profughi, venuti con i corridoi umanitari, i detenuti e i bambini di strada delle periferie del sud del mondo. Si calcola che in Italia abbiano partecipato circa 60.000 persone e oltre 200.000 in una settantina di paesi di tutti i continenti. Tavolate in cui si confonde chi aiuta e chi viene aiutato. Numerosi anche gli appuntamenti nelle carceri italiane, in 55 penitenziari per 5.500 detenuti, domani, 26 dicembre, a Regina Coeli. I pranzi di Natale di Sant'Egidio, resi possibili grazie all'aiuto di tanti amici della comunità, hanno trasmesso un messaggio di pace e solidarietà contro ogni divisione e indifferenza. ma hanno anche fatto emergere la generosità di tanti, la voglia di aiutare chi è più fragile per costruire un mondo più umano e vivibile per tutti. Conclude la nota della comunità.